Musica Troffo ucciso e carbonizzato, 82enne respinge le accuse. Il giallo del docente di educazione fisica ha trovato carbonizzato nella sua auto a Baia Domizia. L'anziano fermato si difende. Non sono stato io, ma per gli inquirenti avrebbe agito per un debito non pagato. Occupata all'Orientale, grave atto di violenza. Dura condanna da parte del rettore Tottoli rispetto all'occupazione della sede dell'Ateneo da parte di un gruppo di studenti in favore della Palestina. Atto di violenza perpetrato nei confronti dell'Ateneo e della democrazia. San Giuliano Palazzo Fuga sarà polo culturale. Giornata storica per la città di Napoli. Apre il cantiere del Real Albergo dei poveri. Sarà una grande infrastruttura culturale, ha annunciato il ministro della Cultura. Obiettivo completare l'intervento entro il 2026. Coppia intossicata. Negativi i primi esami sul marito. Sembra perdere quota. L'ipotesi botulino per il caso di Ariano Irpino. Negativi i risultati delle analisi all'Istituto Superiore di Sanità sui campioni prelevati al Cotugno ad Angelo Meninno. Attesa per gli esami sugli alimenti. Rapina al centro Eurobet. Torna la paura a Salerno. Due malviventi a volto coperto e armati di pistola ieri sera hanno portato via 5.000 euro dal centro scommessa di Pastena dopo aver minacciato i dipendenti. Indaga la polizia. Commercianti e residenti chiedono più controlli. Case popolari. Mastella punta 100 alloggi. Emozione e lacrimi a Benevento per la consegna dei 20 sottotetti costruiti per far fronte all'emergenza abitativa. Mastella annuncia con la mia amministrazione arriveremo ad assegnare 100 case popolari. Buongiorno e ben ritrovati con la nostra informazione in apertura. Il caso del professore Casertano trovato carbonizzato in auto. Il presunto assassino, un 82enne di sesso a Orunca, ha respinto le accuse. Secondo i carabinieri lo avrebbe prima ucciso con una fucilata per poi dare fuoco al corpo. Sentiamo. Il volto dell'assassino sarebbe stato immortalato da alcune telecamere di videosorveglianza della zona. In quei frame i carabinieri di Caserta sono sicuri di aver individuato Angelo Gentile, 82 anni, pensionato con la passione dell'agricoltura e incensurato. Sarebbe stato lui ad aver prima ucciso con una fucilata e poi dato alle fiamme il professore Pietro Caprio, 58 anni. Insegnante di scienze motori a Minturno, il suo cadavere è stato trovato sabato pomeriggio a Baia Domizia. Dopo quattro ore di interrogatorio, l'anziano è stato condotto in carcere. La procura di Santa Maria Capoavetere ipotizza i reati di omicidio volontario e distruzione di cadavere. L'indagato ha respinto le accuse, ma i carabinieri di Cellule avrebbero ricostruito anche le motivazioni alla base del delitto. Tutto sarebbe riconducibile ad un prestito con tassi usurai. Caprio avrebbe dato 10.000 euro all'anziano nel 2002. La somma restituita, con l'ultima rata versata a settembre, sarebbe arrivata a 50.000 euro. Rancori e dissidi economici culminati poi con l'omicidio. La verità potrebbe arrivare anche dagli accertamenti balistici. Gli investigatori hanno sequestrato due fucili da caccia a casa del presunto killer. Si cercherà di capire se una delle armi sia stata utilizzata per uccidere il professore Caprio prima che il suo corpo venisse dato alle fiamme insieme all'auto. Dura condanna da parte di Roberto Tottoli, rettore dell'Università degli Studi di Napoli l'Orientale, rispetto all'occupazione della sede dell'Ateneo di Palazzo Giusso da parte di un gruppo di studenti che manifestano in favore della Palestina. L'occupazione è avvenuta questa mattina intorno alle 7.30, come ricostruisce una nota stampa dell'Università. Un gruppo di persone incappucciate è entrato nella sede, ha fatto uscire il personale e si è barricato dentro. Condanniamo con fermezza l'occupazione di una nostra storica sede, un vero e proprio atto di violenza perpetrato nei confronti non solo dell'Ateneo ma anche della democrazia e delle istituzioni, ha detto il Rettore. Un conto è manifestare le proprie opinioni, un conto è impedire di regolare il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Oggi era in programma Palazzo Giusso un incontro proprio sulla crisi israelo-palestinese che è dunque saltato. Giornata storica per la città di Napoli apre il cantiere del real albergo dei poveri sarà una grande infrastruttura culturale spiega il ministro San Giuliano presente all'evento. Si apre con la benedizione del ministro Gennaro San Giuliano il cantiere per la riqualificazione e il restauro di Palazzo Fuga il real albergo dei poveri di Napoli sarà l'infrastruttura culturale nazionale grazie all'apertura di una biblioteca il raddoppio del Museo archeologico nazionale la sistemazione di uno spazio per le esposizioni e poi l'Università Federico II che è una delle eccellenze italiane non solo napoletane. È un'iniziativa che mi emoziona perché oggi nasce qui a Napoli una grande infrastruttura culturale ma non solo per Napoli ma per tutta la nazione italiana. Voi immaginate insieme il Museo archeologico nazionale l'Università una grande biblioteca significa fare veramente cultura perché la cultura ha bisogno anche di luoghi di spazi di infrastrutture dove poter essere declinata qui si potranno organizzare concerti di buona musica si potrà fare del cinema proiettare del cinema e quindi è davvero un momento felice. Una proposta veramente all'avanguardia a livello europeo e a livello globale che trasformerà l'albergo dei poveri in una grandissima fabbrica della cultura rivolta ai cittadini rivolta ai nostri giovani che per creare per avere formazione creare impresa creare cittadinanza i lavori cominceranno tra qualche settimana quindi l'obiettivo è concludere per il 2026. Coppia intossicata da Ariano Irpino negativi i primi esami eseguiti sui campioni prelevati ad Angelo Menino il marito della donna morta in seguito a un'intossicazione alimentare per decuota quindi l'ipotesi del botulino sentiamo La salma di Gerardina Corsano resta in obitorio al frangipane di Ariano Irpino a disposizione dell'autorità giudiziaria sabato si è svolto l'esame necroscopico al quale hanno partecipato un pool di esperti sono stati prelevati i campioni dal corpo di Gerardina che dovranno essere analizzati dall'Istituto Superiore della Sanità di Roma gli stessi campioni sono stati processati anche all'ospedale Cotugno di Napoli dove è ricoverato il marito della 46enne l'esito dei campioni dell'uomo sembrerebbe negativo ma ciò non chiarisce ad ogni modo la causa della morte di Gerardina bisognerà attendere gli altri esiti sia sui tessuti che sui prodotti alimentari sequestrati nel ristorante in casa dei coniugi di Flumeri al momento l'ipotesi del botulino avanzata subito dopo la morte della donna sembra allontanarsi sempre di più ma saranno gli accertamenti tecnico-scientifici a dare la verità alla triste vicenda come afferma il direttore dell'Istituto Zoo Profilattico del Mezzogiorno Antonio Limone ospite dell'approfondimento punto di vista cerchiamo di capire anche perché c'è un magistrato il PM di Benevento che sta approfondendo l'indagine ora succede che se due persone vanno in una pizzeria mangiano un alimento che potrebbe contenere la tossina potrebbero anche non essere gli unici che contraggono la malattia e quindi se è stato utilizzato quest'olio è possibile pensare che quest'olio sia stato utilizzato solo da loro? Se il marito dice alla signora ma senti qui c'è qualcosa che non va ma noi sappiamo perfettamente che la tossina del botulino quindi del crostridium botulinum è in odore in sapore e in colore Si rinnova la flotta Air Campania oggi a Caserta la presentazione dei 200 nuovi bus con il governatore De Luca primo passo di un progetto più ampio che vedrà la realizzazione del terminal davanti alla reggia Procede il programma regionale per il rinnovo del parco veicolare delle aziende di TPL su gomma questa mattina a Caserta presso la sede operativa di Air Campania sono stati presentati nuovi bus assegnati all'azienda regionale di trasporto presente il governatore della Campania Vincenzo De Luca insieme al presidente della commissione trasporti Luca Cascone l'amministratore di Air Campania Antonio Acconcia il sindaco di Caserta Carlo Marino e il direttore generale Iveco Bus Mercato Italia Gianluca Annunziata per il presidente De Luca una giornata importante non solo per la provincia di Caserta è un investimento importante abbiamo cominciato questa mattina la consegna di 190 autobus nuovi stiamo procedendo nel rinnovo totale di tutto il parco dei mezzi su gomma e su ferro essendo partiti da zero completeremo entro il prossimo anno l'acquisto di oltre 1600 autobus nuovi quindi veramente uno sforzo gigantesco al servizio delle nostre comunità ma il progetto verso una mobilità più efficiente è più ampio e prevede anche la realizzazione del terminal davanti alla reggia nell'area dell'ex canapificio a Caserta poi prevediamo come sapete un ulteriore investimento molto importante di 25 milioni di euro per avere un terminal bus quasi di fronte alla reggia di Caserta l'ex canapificio è un lavoro bellissimo vedrete si farà un terminal davvero quasi unico in Italia davvero una cosa che porta all'avanguardia anche la città di Caserta Paura in Valle Caudina incendiata l'auto di un avvocato l'incendio si è sviluppato a Rotondi sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri l'incendio è di natura dolosa e l'auto è stata sottoposta a sequestro l'avvocato si è trasferito a Rotondi da poco tempo ed è originario del napoletano ora toccherà le forze dell'ordine alla magistratura fare piena luce sul caso intanto all'avvocato arriva la solidarietà dal consiglio dell'ordine di Avellino ancora una rapina a Salerno due malviventi a volto coperto e armati di pistola ieri hanno portato via 5 mila euro dal centro scommesse Eurobet di Pastena sono preoccupati i residenti del quartiere di Pastena a Salerno dove ieri pomeriggio in via Giovanni Battista Mendola due uomini con il volto coperto e armati sono entrati all'interno del centro scommesse Eurobet hanno minacciato con una pistola i dipendenti facendosi consegnare il denaro in cassa 5 mila euro per poi scappare via indisturbati sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione volanti della polizia hanno ascoltato i testimoni e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'attività che potranno fornire dettagli utili per le indagini e caccia i due malviventi ma i commercianti e la gente del posto si sentono abbandonati in questo momento la città non è sicura ci vogliono più poliziotti più uffici urbani che vengono a guardare nei quartieri la zona rientrata secondo me è abbandonata questa era una zona tranquilla prima che arrivava il bingo tutte queste aperture di Eurobet io lo chiamo il triangolo delle bermuda non è che vanno a rubare un negozio di giocattoli un negozio dove poi stanno in cassa e questo è mancano le forze dell'ordine ci mancano un controllo proprio a tappete che non c'è alle otto di sede devono chiudere i negozi e poi parlare nella città turistica no per gli esercenti anche i tagli sul reddito di cittadinanza potrebbero favorire questi episodi criminali io penso che ci siano diverse congomitanze un po' perché i cittadini non sono più aiutati economicamente dal governo un po' perché la situazione è quella che è ed ora il settore rifiuti in Irpinia operai in protesta davanti alla prefettura e non sono mancati momenti di tensione nel passaggio di cantiere tra Irpinia Ambiente e Devizia ballano 19 operai che ad oggi sono licenziati riassetto dei rifiuti in Irpinia ballano 19 operai nel passaggio di cantiere tra Irpinia Ambiente e la Devizia operai e sindacati questa mattina in presidio davanti alla prefettura per lanciare un SOS a palazzo di governo il subentro del socio privato non salvaguarda i livelli occupazionali c'è un elenco di 76 unità più 18 che stavano fuori elenco ma hanno 19 che stavano fuori elenco perché praticamente fanno parte di quelle persone che facevano straordinario però strutturato su Avellino per Michele Caso è inaccettabile che uno scontro politico istituzionale produca questo impasse sulla pelle dei lavoratori c'è una differenza di 19 persone che resterebbero in mezzo alla strada in un settore che non si ferma mai non c'è crisi sui rifiuti il problema è che c'è una crisi politica c'è una crisi istituzionale che ha determinato questo impasse generale quindi noi chiediamo al prefetto oggi con fermezza sia ben chiaro con fermezza e con determinazione che ci smetta mano ma per il sindaco festa non ci sono ostacoli il servizio partirà la città risparmierà circa meno e mezzo di euro ottenendo anche prestazioni migliori speriamo solo appunto che per il 16 non ci siano ulteriori perdite di tempo che ovviamente non dipendono da noi qualche momento di tensione quando la Fiasi ha chiesto di far salire anche una propria delegazione dal prefetto sintomo comunque di una situazione calda per il sindaco festa va sempre tutto bene intanto ci sono questa ventina di operai che non sanno domani cosa sarà il loro futuro emozione e lacrime questa mattina a Benevento per la consegna dei 20 sottotetti costruiti per far fronte all'emergenza abitativa Mastella annuncia con la mia amministrazione arriveremo ad assegnare 100 case popolari entusiasmo commozione e qualche lacrima di gioia questa mattina a Benevento per la consegna delle chiavi dei 20 sottotetti di edilizia popolare realizzati dall'amministrazione dall'acer rincontrata a Capodimonte un giorno attesissimo dalle famiglie che finalmente realizzano il sogno di una casa felicissima emozionatissima non sembra però si è emozionata diciamo che non sto capendo niente in questo istante sono stati anni di lotta anni difficili ma oggi ha ripagato tutto quello che abbiamo sofferto in questi anni io mi auguro solamente che ci sia la fortuna che abbiamo avuto noi oggi per tante altre persone perché ce ne sono molte molte altre con la consegna degli ultimi 20 sottotetto abbiamo chiuso una vicenda annosa che andava avanti da anni il primo step c'è stato il 4 agosto quando abbiamo consegnato i 32 alloggi di nuova costruzione e con oggi siamo arrivati a 52 un storico risultato proprio per la città di Benevento perché era come diceva il sindaco dagli anni 80 che non venivano costruiti nuovi alloggi di edilizia residenziale il sindaco Mastella ha ricordato anche il finanziamento di 5 milioni di euro ottenuti per la riqualificazione della scuola San Modesto al rione Libertà dove saranno realizzati 26 nuovi alloggi popolari io spero arrivare durante il mio mandato a più di 100 100 casi che avremo assegnato ai cittadini di Benevento tenendo conto che abbiamo avviato anche o ristrutturazione giù al rione Ferrovie e anche là sono 10 milioni di investimenti 5 e qua insomma è una bella cifra quella messa in campo per quanto riguarda questi edilizzi di natura sociale presentata questa mattina la Federico II la terza edizione di Core Academy il percorso di alta formazione per formare figure specializzate nel settore dei servizi pubblici sentiamo 35 gli studenti che saranno impegnati in un progetto didattico della durata di 5 mesi per circa 475 ore tra lezioni frontali laboratori seminari ed eventi esterni al via la terza edizione della Core Academy all'Università Federico II di Napoli questa mattina la presentazione del percorso di alta formazione presso il polo tecnologico di San Giovanni a Teduccio anche per questa edizione lavoreremo molto sul tema della sanità e dei servizi sociosanitari in quella idea di fondo di preparare i nostri giovani al mercato del lavoro al mondo del lavoro e quindi l'augurio che ci facciamo che facciamo a questi giovani allievi è quello di iniziare questo percorso con le migliori diciamo migliori auspici percorso che prevede infatti un approccio multidisciplinare realizzato in collaborazione tra l'Ateneo e le aziende coinvolte nel progetto cerchiamo talenti e i talenti si formano si accompagnano in un percorso chiaramente di crescita sia loro ma anche di noi come società il rinnovare per noi significa guardare un orizzonte tecnologico ma non solo inserendo anche tutto un indirizzo multidisciplinare cerchiamo di portare il nostro contributo e di dare ai ragazzi un'opportunità di formarsi in un mondo del lavoro sempre più dinamico e dove sempre di più sono richieste competenze trasversali che vanno al di là della formazione accademica dolore e rabbia nocera inferiore durante la fiaccolata in memoria di annalisa d'auria la giovane donna uccisa nel torinese dal compagno che poi si è tolto la vita sentiamo il servizio un corteo silenzioso ha attraversato le strade di nocera inferiore per ricordare annalisa d'auria la 32enne nocerina uccisa nel torinese dal compagno agostino annunziata che poi si è suicidato sul posto di lavoro così come era caduto già rivoli anche la città natale della donna è scesa in strada per ricordarla toccante il ricordo del cugino di annalisa che ha voluto rivolgere un pensiero soprattutto alle due figlie della donna siamo cresciuti tutti come un'unica famiglia quindi il dolore che ha provato lei è il dolore che proveremo noi giorno per giorno abbiamo però due luci da non far spegnere che sono le figlie che ovviamente cercheremo di circondare d'amore e di portare avanti nel migliore dei modi amici parenti ed amministratori hanno illuminato con le fiaccole le strade della città di Nocera Inferiore raccogliendo l'invito dell'associazione e gli amici di Carmine Dauria che prende il nome dal fratello di Anna Lisa morto anni fa per un malore un momento di riflessione e preghiera vissuto con partecipazione dall'intera comunità nocerina spesso ci muoviamo a prescindere da un ruolo ma da una sensibilità che pensiamo di avere dentro io mi sono spinto anche a dire che sono entrambe vittime di questo episodio perché penso che la carità cristiana si rivolga ad entrambi i coniugi o comunque i conviventi nei prossimi giorni ad Avellino partirà un'indagine epidemiologica sugli abitanti di Borgo Ferrovia e della Valle del Sabato per capire se sono davvero esposti ai fattori di inquinamento ambientale sentiamo una indagine epidemiologica su base volontaria rivolta alla popolazione di Borgo Ferrovia e Piano Dardine per capire se davvero la popolazione della Valle del Sabato è esposta a fattori di inquinamento ambientale l'indagine partirà nei prossimi giorni grazie alla MEIR associazione malati endocrini irpina che collaborerà con il comune di Avellino per prestazioni sanitarie completamente gratuite abbiamo iniziato questa attività a Tufo e a Prata e vorremmo estendere anche ad altri paesi perché dagli studi alcuni studi recenti per esempio il studio SPES dell'istituto zoo profilattico di Napoli sono state dimostrate con attendibilità scientifica notevole la presenza di sostanze tossiche nell'aria nel suolo nelle acque sono degli interferenti endocrini cioè delle sostanze che danno fastidio tra virgolette alle ghiandole endocrine noi ci occuperemo in modo particolare della tiroide e cosa faremo faremo indagini ai pazienti non sono pazienti ai cittadini a potenziale paziente visita endocrinologica cioè la visita alla palpazione della tiroide poi l'ecografia tiroidea gli esami specifici e eventualmente se scopriamo dei inutili sospetti un ago aspirato la sanità sanita merita di più dalla regione questo è il monito del senatore di fratelli d'italia Domenico Matera che torna ad accendere i riflettori sulle ombre della sanità in provincia di Benevento e annuncia delle novità la sanità specialmente nelle aree interne va potenziata e non certo ridimensionata a chiederlo a Gran Muscia la regione Campania è il deputato sanita di fratelli d'italia Domenico Matera che chiede a Palazzo Santa Lucia uno sprint per colmare il gap della sanità in Campania nel samnio attenzione rivolta alle strutture ospedaliere di Benevento e Sant'Agata dei Goti ma anche alla vera emergenza che resta il personale nonostante un buon lavoro messo in campo dai dirigenti delle strutture sanitarie in provincia di Benevento abbiamo però il problema che la regione Campania ci penalizza come al solito oltre alla dramma dell'ospedale di Sant'Agata dei Goti insomma abbiamo visto che anche il piano delle assunzioni ha subito un taglio forte da parte della regione Campania insomma dei mille persone da assumere ce ne hanno autorizzato solo 400 la speranza è che almeno questi insomma vengono assunti al più presto perché la carenza di personale di organico crea il problema delle liste d'attesa sanità di competenza esclusivamente regionale quindi serve oculatezza nell'impiego dei fondi che arrivano dal governo centrale il monito del senatore Matera il governo dal suo canto sta facendo il possibile ha fatto il possibile l'anno scorso con la finanziaria anche quest'anno mettiamo altri 3 miliardi di euro ovviamente è un tema regionale quello la competenza è regionale se la regione sperpera i fondi non li organizza in un certo modo è chiaro che le aree interne le province più piccole sono quelle più penalizzate giornata speciale per la fondazione di Don Luigi Merola Villa Bambù consegnato un assegno da 20 mila euro ricavato dalla vendita di alcuni beni della vedova chianese Monetti sentiamo un'altra giornata particolare per la fondazione a voce De Creature l'ente di prevenzione e recupero dalle devianze ai minorili fondato e sostenuto da Don Luigi Merola l'avvocato Patrizia Longi esecutore testamentario della signora immacchianese vedova Monetti ha consegnato un assegno di 20 mila euro nella sede di Villa Bambù nel quartiere Arenaccia presenti gli eredi gli educatori i bambini e il direttore del Roma Antonio Sasso che hanno seguito l'emozionante cerimonia che celebra la generosa benefattrice che ha voluto destinare parte del ricavato della vendita dei suoi beni alla nobile causa e ha lasciato uguale disposizione testamentale quella di destinare in beneficenza il ricavato della vendita di tutti i beni che sarebbero stati ritrovati in casa al momento della sua morte i primi 20 mila euro di questo ricavato sono stati destinati a voce per creature la fondazione di Don Luigi Nerola la fondazione è nata 16 anni fa per raccogliere tutti i ragazzi dai 6 a 17 anni e dare in aziotto lo studio perché noi salveremo questa città aumentando il livello culturale di quei ragazzi che senza cultura sarete un cellulino senza le ali con la cultura potrete levare dunque i ragazzi sono impegnati e sono impegnati poi nei laboratori fino a sera tardi questi bambini meravigliosi che grazie a Don Luigi hanno questa opportunità di poter trascorrere delle giornate fuori da tutti i problemi enormi che hanno le loro famiglie e di stare in serenità e sicuramente Emma da lassù oggi per lei è una giornata felice ed era l'ultimo servizio e la TG termina qui grazie per la vostra attenzione Grazie a tutti Grazie a tutti